buongiorno buona domenica a tutti cari amici vedete dall'immagine di copertino un bazzole anche se qui nella mia città di trani oggi un po nuvoloso comunque passiamola ovviamente con tranquillità serenità sono almeno in tv tra film e sport ognuno può scegliere sul modo di passatempo di questa domenica manteniamoci ovviamente anche alla tavola mi raccomando perché per esempio seppur simpaticamente mi danno un po l'allargatura del cicciotto va bene noi ci vediamo nel prossimo caso di nuovo buona giornata e buona domenica a tutti ciao